ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e oggi vi porto un nuovo completo che potete salvare ovviamente questo completo è diciamo assemblato allora questo completo è il completo di slenderman come avete visto in descrizione voi direte chi cazzo è slenderman slenderman era un personaggio una leggenda diciamo un personaggio un po' strano alquanto diciamo inquietante che rapiva persone e da questo personaggio è stato anche creato un gioco questo personaggio è nato nel 2009 è stato creato un gioco che ha fatto anche un bel boom diciamo non so chi lo ricorderà questo questo gioco insomma però comunque sia è un gioco abbastanza conosciuto perché si chiama slender the hate page e e quindi niente volevo portarvi questo diciamo questo completo allora per fare questo e poi al limite chi ne volesse sapere di più andasse su wikipedia ragazzi o su un qualunque sito dove si parla di slenderman allora per fare questo avrete bisogno innanzitutto di di avere personaggio uomo ovviamente non proprio donna però insomma un slenderman con le tette comunque va bene andate al negozio di parrucchiere insomma e mettete questo cerone bianco che io ho messo con la lente a contatto da zombie cioè tutta bianca sì perché comunque slenderman aveva questa caratteristica era un personaggio diciamo senza faccia senza faccia e quindi per fare questo dovreste fare questo discorso che ho fatto io mettere questo cerone bianco diciamo no questo da charlie ceddi che anche quello sarebbe un altro bel completo comunque sia passiamo a questo di completo e quindi una volta messo quel quel cerone bianco andiamo a mettere questo completo ragazzi questo completo perché è quello che si avvicina un po di più diciamo che rende il nostro slenderman un personaggio abbastanza somigliante perché slenderman era un personaggio molto alto quindi dovremmo simulare la finezza e l'altezza diciamo una volta messo questo completo andremo a mettere questa questo passamontagna da neve che ci coprirà la bocca ci coprirà le orecchie tutto il resto e infine metteremo i guanti ragazzi guanti bianchi da chirurgo ed ecco qui il nostro slenderman bello è pronto se vi piace il completo potrete salvarlo insomma niente ragazzi spero di portarvi presto un altro completo per questo video è tutto un saluto da maxi al prossimo video